Il libro tratta della città, della città ottocentesca, dalla fine ottocenta all'inizio del novecento, dal 1898 fino al 1912. Abbiamo preso questo periodo perché noi riteriamo che sia l'ultimo periodo della Savona ottocentesca vissuta. Il libro parte dalla stazione di Savona perché era il centro della città, il posto di arrivo delle persone. Arriva in piazza, allora era piazza Umberto I, principe, perché non era ancora diventato re. Entra nella piazza che la troviamo bella nuova con gli alberi ancora piccolini, ancora appena piantati e piano piano si svicola per tutte le vie cittadine. Va avanti la via Paleocappa, poi troviamo la piazza Paleocappa che allora non era piazza Mameli ma era piazza Paleocappa con tutti gli alberghi che c'erano intorno. Il monumento non esisteva, la banca d'Italia era più bassa di un piano. Il palazzo, noi lo chiamiamo il palazzo della Luminosa, ma è il palazzo che si trova sulla sinistra della piazza, quel bel palazzo bianco. Qualcuno mi ha detto che durante il fascismo si chiamava il palazzo degli squali perché ci abitavano tutti i pezzi grossi del fascismo. Io questo non lo so, però l'ho sentito dire. Si prosegue, si va avanti, si incrocia Corso Principe a Medeo, che adesso è Corso Italia, si prosegue fino ad arrivare alla Toretta, tenendo conto che sulla destra mancava l'ultimo palazzo, il palazzo dei Pavoni, che è stato finito nel 1910. Dalla Toretta ci spostiamo verso Miramare, dove non esistevano ancora le funivie. C'erano dei bei bagni marini con l'albergo Miramare, che ancora adesso sta andando in decadenza purtroppo. La strada finiva lì perché l'Aurelia non c'era, c'era la vecchia strada di Albissola. Torniamo indietro, facciamo tutta la calata. Tanto sulla sinistra, appena passata la Toretta, troviamo la cosiddetta Marinetta, che era una piccola insenatura dove i pescatori riponevano le loro barche, che poi è stata colmata nel 1905. Lì c'era anche un piccolo edificio che si chiamava la Doganetta, interessante, era esagonale, fatto in una forma esagonale, basso, non so quando sia stato demolito, non ricordo. Si proseguiva lungo la calata, che era la calata quella di adesso, cioè la parte bassa, perché via Gramsci non esisteva, c'erano tutti i palazzi su via Gramsci, che sono stati tutti bombardati durante l'ultima guerra. Parte bombardati, parte incendiate, comunque sono stati distrutti. Lì si proseguiva nella calata, si entrava nel Cuy-de-Boe, si entrava nel porto, c'era la terrassetta, che era il prolungamento di Corso Mazzini, allora la terrassetta perché la strada che scendeva lì dal mercato coperto, che scendeva giù, non c'era. Si girava in via Pietro Giuria, c'erano tutti i palazzi che anche lì sono stati distrutti, c'era la via del Pallone, quelle vie antiche lì, la pescheria, poi c'era la piazza delle erbe, lì è nato mio padre, abitava mio papà in via Refici, che era a Tigo, a piazza delle erbe. Mio papà scendeva le scale, al mattino si prendeva un'albicocca, se la mangiava perché le ceste erano lì sulle scale, non gli diceva niente nessuno a quei tempi là. C'era Piazza delle Erbe, prima ancora c'era Piazza Colombo, di Piazza delle Erbe. Abbiamo per cui calata Piazza Colombo, Piazza delle Erbe, Piazza Caricamento, Piazza Caricamento dove poi avrebbe girato il tram, dove c'erano tutti i cari appostati che portavano la frutta e la verdura lì in Piazza delle Erbe. Ogni tanto qualche cavallo saltava nel Cuy-de-Boe, che impazziva, e li prendevano con la barca, li portavano dalle scalette della torretta per tirare con tutta la gente. Sul libro c'era una bella fotografia di questo carpe diem, di questo attimo qua. Da Piazza Caricamento si girava verso via Pietro Giura, c'era il mercato coperto, molto bello, con due scale laterali che salivano su, c'era la chiesa, si arrivava lì vicino in Piazza Mazzini, che confinava con Corso Mazzini, dove c'era la chiesa di San Filippo Neri, distrutta anche quella della guerra, c'era l'edificio degli Scolopi, che poi quando hanno allungato via Pietro Giuria l'hanno trasferita su a Villa Corsi, su a Monturbano, e poi si arrivava pian pianino verso il centro cittadino, lì c'erano tutti, si trovavano i cachet, tutte le case vecchie del quartiere dei Cassari, che sono state poi distrutte negli anni 20, no, negli anni 30 per far posto doveva venirci la provincia, perché Salmono era il 27 e diventata provincia, per cui doveva venire il palazzo della provincia, che poi non fu mai stato fatto, perché poi c'è stato lo scopio della guerra e via. Grazie a tutti.